Palazzo Bronzo allestisce nell'area archeologica dei Giardini Gunzati una mostra che ha anche una realtà artistica molto particolare, diffusa su tutta l'area. Cosa significa, cosa spiega questo allestimento? Allora, questo allestimento vuole raccontare un po' l'esperienza del crowdfunding che noi abbiamo lanciato a novembre 2022. Sostanzialmente abbiamo deciso di lanciare una campagna crowdfunding per trovare dei finanziamenti e riuscire a portare avanti il progetto di Palazzo Bronzo che è un artiste round space nei vicoli in salita di Mascherone 18 Rosso. L'obiettivo del progetto in generale di Palazzo Bronzo è quello di creare uno studio d'arte per accogliere artisti da fuori di Genova e poter produrre arte contemporanea in dialogo con altri artisti, non chiusi nel proprio stanzino, nel proprio studiolo, ma con altre persone che facciano cose diverse, che quindi offrano anche discorsi diversi, più ricchi e più sulla contemporaneità, portare avanti un discorso sulla contemporaneità confrontandosi. L'evento che facciamo oggi qui, Palazzo Bronzo, porta un po' di sé nei giardini luzzati e per questa occasione abbiamo portato alcuni lavori e alcune opere che sono anche oggetto e premi del crowdfunding che abbiamo lanciato qualche mese fa. Ci sono sia opere visive, sculture, quadri e poi abbiamo l'Oculus, quindi un'esperienza in virtual reality, che sarebbe VR, in cui le persone che vengono a visitare la mostra, oltre a vedere le opere, può fare questa esperienza in Oculus. Oltre alla mostra abbiamo tutto il pomeriggio una radio on air, che è gestita e mixata da Marco Augusto Basso, in arte, mille piani, e alcuni artisti ci hanno mandato delle tracce che lui poi rielaborerà e mixerà. E poi dalle 20 o 21, vediamo, abbiamo una line-up di alcuni artisti che abbiamo invitato a suonare, che sono Pedrito Key e Tabula, che suoneranno insieme, e poi abbiamo Annie Sleepless e Zabo. Insomma, andiamo avanti sinché si può far festa. Questa campagna di crowdfunding è ancora attiva sulla piattaforma Produzioni dal Basso, sotto il nome Fiscal di Palazzo Bronzo, e niente, siamo molto grati a tutti quelli che ci hanno sostenuto e a chi ci vorrà sostenere. Grazie.